I got options, I can pass that bitch like Stark Chi farà peggio, chi sarà la delusione, chi sarà la sorpresa Fatemi sapere la vostra Andiamo a fare una carellata in ordine inverso di classifica Quindi per la Easter Conference le robe golose sono la fine purtroppo Cominciamo da Detroit Pistons Che non c'è molto da dire sinceramente Hanno fatto pietà l'anno scorso Hanno gestito abbastanza male quel poco che avevano Tra cui Blake Griffin, Andre Drummond e anche Derrick Cross Che è passato di lì per un simil progetto di playoff L'unica cosa positiva è che hanno preso Cade Cunningham alla 1 Hanno da rookie per lui Sembra effettivamente essere molto molto buono Vedremo cosa farà in NBA Ci sono ancora tanti punti di domanda ovviamente su di lui E dovrebbe essere lui quello che gli dà un po' vita A questa franchigia abbastanza morta e sepolta negli ultimi anni C'è da capire adesso chi giocherà playmaker tra lui e il giovane playmaker dell'anno scorso Killian Hayes Dalle ultime sembrerebbe Ace playmaker e Cunningham guardia Già qui non saremmo molto d'accordo C'è Jeremy Grant che ha fatto belle cifre l'anno scorso C'è qualche altro giovane semi interessante Non vedo come possano fare granché di meglio A meno che Cunningham non si riveli il fenomeno E allora magari non si sa mai Perché nella Easter Conference tipo le prime sei squadre sono abbastanza scritte Poi sotto si può lottare un po' per tutte le posizioni Per quanto mi riguarda prima di vincere le partite c'è da ricostruire un po' tutta l'immagine della franchigia E Cunningham potrebbe essere l'inizio però li vedo abbastanza male dell'anno prossimo Per l'ultima classificata Orlando in cui c'è forse meno da dire ancora di Detroit Perché Orlando ha appena ricominciato il processo di rebuilding la scorsa tra i Deadline Facendo volare Vucevic, Aaron Gordon e chi altro che c'era ancora? Terrence Ross Non Terrence Ross che c'è ancora ma Evan Fournier Perdonatemi Hanno scelto Jaline Sachs al draft Non pensavano di trovarlo ancora libero E avrebbero forse dovuto prendere qualcun altro Visto i tanti playmaker che hanno compreso Colentoni trattato l'anno scorso Anche qui ci sarà da capire chi parte titolare, gioca uno play, uno guardia Non credo perché sono un po' entrambi undersized Non si sa La speranza grande di Orlando forse quest'anno è Wendel Carter Jr Preso nella trade con Chicago Un po' bloccato dal non grande alchimia in quel della Windy City Magari potrebbe fare la sua breakout season quest'anno E di sicuro Orlando lo sperano Di certo non credo farne i playoff e nemmeno contenderanno Anzi forse non è neanche nel loro interesse contendere per i playoff Terza ultima I Cleveland Cavaliers Una squadra davvero strana Perché hanno una quantità di ale e ali e di centri imbarazzante Hanno preso il draft Evan Mobley Che per adesso in preseason per quanto conti zero Ha fatto abbastanza bene Hanno preso Jared Allen a lungo termine E neanche con un contratto bruttissimo Non è per niente bello il contratto di Kevin Love Che è ancora lì e sembra non avere nessuna intenzione di andarsi Non è molto bello il contratto di Markanen per cui hanno fatto la trade Non credo che tutti questi a fine anno saranno ancora dei caps C'è la questione del contratto di Sexton Dell'estensione contrattuale da cercare di capire Anche lui potrebbe andarsene entro fine anno Ci occorre da sviluppare Insomma il potenziale c'è Il potenziale c'è Se i pezzi vanno assieme Perché non lottare quantomeno per una posizione ai play-in Però anche qui Non so se forse nell'interesse dei caps Già cercare i play-off O magari provare a fare quella trade Che ti porta a casa il giovane interessante O una sorta di star Come potrebbe essere Ben Simons Che è in rotta con la società Per poi effettivamente ripartire L'anno dopo e costruire assieme al nuovo arrivato Non lo so Però di sicuro è una squadra più interessante rispetto alle altre prima Alla dodicesima piazza Abbiamo i Toronto Raptors Che hanno cambiato un po' pelle Finendo un po' l'era iniziata con Laurie de Rosam Poi proseguita con Laurie, Siakam e Kawhi Dando via Anzi dando via Perdendo Laurie Con una sorta di sign and trade In cui hanno ricevuto Goran Draghi Un po' verso fine Anzi verso fine carriera Che però può ancora fare il suo Può essere da mentore Per i più giovani in quelli di Toronto Hanno draftato Scottie Barnes Anche più in alto di quello che Poteva sembrare adatto Per il tipo di giocatore che sembra essere Però tutti parlano bene di Scottie Barnes Vedremo Su una di quelle squadre particolari Che di sicuro lotterà per i playoff E che può assolutamente farli Perché la mentalità è rimasta ancora Quella degli anni ruggenti Di qualche anno fa Di Kawhi Anche l'anno dopo Nella bolla Qualche assetto per fare bene Anche in ottica futura C'è l'anno C'è da risolvere questa Sembra baruffa Tra Siakam e Nick Nurse Si torna a giocare a Toronto Questo porterà di sicuro Qualche vittoria in più Io li vedo Abbastanza quotati Tra le prime otto Anche se forse Una squadra Senza un leader Senza una guida spirituale Che magari in un momento di difficoltà Si può un po' squagliare Però Meglio degli altri Arriviamo ai Bulls Signori Una delle Se non la Vincitrice Della free agency Di quest'anno Perché hanno portato a casa L'onzo Hanno portato a casa L'anno scorso In trade day Dovano a dire la verità Ma facciamolo contare Come quest'anno Vucevic Hanno portato a casa De Rosan Hanno portato a casa De Rick John Jr Ma soprattutto Hanno portato a casa Caruso E C'è tanto hype Attorno a questa squadra E ho paura Che venga Che venga un po' deluso Il contratto di De Rosan Bene Sono contento che sia Chicago Ma il suo contratto È più preoccupante Che Diciamo qualcosa Di cui vantarsi Come vedete qui È un triennale Da 27 milioni A salire Fino a quasi 30 Alla terza stagione Quando avrà 30 e passa anni Quindi Eh Dicevo C'è tanto hype E anch'io Sono molto Fiducioso Di vederli Perché sembra Si trovino bene Sembra Siamo contenti Di giocare Tra di loro È vero Che c'è Qualche domanda Nel senso La VIN Può portarti Effettivamente Una squadra A vincere Delle partite Importanti In regola season Per qualificarsi I playoff E anche poi Ai playoff Giocare Delle partite Importanti Vucevic Farà ancora Le sue solite Cifre doppie Doppie Magari avrà Un impatto Anche difensivamente Un po' più importante Delle partite De Rosa Sedetterà bene Al modo di giocare Lonzo Ball Che sembra aver Drasticamente Cambiato il modo Di tirare Anche rispetto Agli ultimi anni Che era già migliorato E sembra essere diventato Un ottimo Tiratore da tre Kobe White Svilupperà Patrick Williams Draftato l'anno scorso Che nella seconda metà Di stagione Ha fatto molto bene Svilupperà ancora Il suo talento Chi lo sa Sono tante domande Tante incognite Certo è che Chicago Deve Quanto meno Quanto meno Essere all'interno Delle dieci Che fanno i play-in Dovrebbe essere Nelle prime otto E forse anche Nelle prime sei Chicago Tanto hype Per questa squadra Sono curioso Tanto di vedere Come faranno Secondo me Possono fare Anche top 5 Nella Easter Conference Ma col fatto Della amalgama E le cose Pagheranno un po' All'inizio E si troveranno Un po' a rincorrere Secondo la mia Idea E faranno i play-off Sì Ma secondo me Meno di quello Che avrò potuto fare E potrebbero essere Una di quelle Mine vaganti Ai play-off Per i primi seed Prima delle dieci squadre Che ha partecipato Alle partite Che contano Nella post-season Ovvero i play-in Li Charlotte Orne L'anno scorso Poi hanno preso Una merda Colossale Dai Pacers Non ricordo male Non è cambiato molto Anzi forse addirittura Quasi niente Ma la cosa più importante È che è passato un anno Per questo roster Giovanissimo Ma super promettente Tra cui Ovviamente Brilla La stella Del rookie of the year Uscente Ovvero la Melo Ball Da cui ci si aspettano Grandi cose Non solo dal punto di vista Dello spettacolo Che quello ne fornisce sempre Ma anche di leadership Di portare la squadra Ancora un gradino sopra Il decimo posto L'anno scorso Era una sorpresa Direi che quest'anno Si possa puntare A ripetere Perché magari Anche no Nono Ottavo Settimo Oltre La vedo difficile Da segnalare James Bogknight Scelto alla Bu Non lo so Al draft quest'anno Che Sembra essere Molto interessante Si parla bene di lui Ha già fatto qualche Highlight interessante In pre-season Indiana Pacers Non ha piazza L'anno scorso La squadra È quella Devono però Aspettare Il ritorno di Le Ver Che l'anno scorso Ha giocato Sì e no 20 partite Il ritorno di TJ Warren Che si è operato Al piede Alla caviglia Una roba del genere Anche lui starà fuori Un pochetto C'è da capire Sembra sulla bocca Di tanti Una possibile trade Sembravano in pole position Per Ben Simmons Anche addirittura E secondo me Farebbero bene Perché è difficile Che un grosso free agent Vada a Indiana Farebbero bene A prendere via trade Qualcuno Che magari Ti dia una spinta Alla squadra C'è sempre Sabonis Che è un all star Una macchina Di doppie doppie E triple doppie Il solido Ce l'ho al Dunket Quindi speriamo bene C'è Mystarner Che a me non piace Però guida quasi sempre La Lega Per stoppate C'è Carlyle Che è il vero acquisto Nella free agency E quello che potrebbe dare Un boost in più A una squadra Sono quelle squadre rognose Sono quelle squadre rognose Che di sicuro Lotteranno anche quest'anno Per fare i playoff Magari poi non li faranno Però saranno sicuro Lì nel mix E se va bene E se va bene Perché no Possono anche ambire A qualcosa di più Di solamente lottare Per i playoff Ottava piazza L'anno scorso Sculacciati fuori Di FIAVS26 Sessi playoff I Washington Wizards Di Brady Bill E non più Westbrook Perché Westbrook Come sapete È nato LA Di fatti Sono arrivati Montrezera Kentavius Caldo e Pop E Kuzma Da LA Con qualche scelta Che non mi ricordo C'è Brady Bill Da solo sull'isola Qui c'è da capire sempre Lo tradiamo Sto Brady Bill Finché ha valore O dobbiamo aspettare Che si rompa L'osso del collo Prima di tradarlo Come abbiamo fatto Con John Wall Cioè Non capisco Perché con questo roster Bellissimo A Cimura Molto giovane Bene Gaffor Bene Daniel V Già Neanche troppo È arrivato Di Widi Ok per l'amor di Dio La Easter Conference Nelle basse posizioni Non è un gran che Magari si può arrivare Ai play in Come l'anno scorso Però sì Qual è il senso A breve termine Di fare i play in Io direi Tradiamo Bill Prendiamo più giovani Più scelte possibili E rifondiamo Vai te a sapere Che Kuzma Ti faccia la stagione della vita La breakout season Quest'anno Dico Ok Allora magari Con Brady Bill Di Widi Thomas Bryan Che torna dal crociato E tutti gli altri Magari si può fare Qualcosa di buono Però sì Non capisco L'immobilismo Dei Wizards Ecco Diciamo Diciamo così E Dubito faranno Qualcosa di buono Speriamo Bill Faccia tanti punti Visto che ce l'ho Il Dunkist Settima piazza Per i Boston Celtics Che hanno cambiato Qualcosa A partire dal coach Che non è più Brett Stevens E anche qui Bisogna vedere Come il nuovo coach Impatterà su questa squadra I cardini Sono rimasti quelli Ovvero Tatum E Brown E cambiato il playmaker Sono liberati Non tanto del giocatore Kemba Ma del contrattone Di Kemba Walker Per andare a prendere Il rinnegato Dennis Scherer Tanto perculato Per aver rifiutato Il contrattone E i Lakers Per poi finire I Celtics Ce lo ricordiamo tutti In quelle robe vergognose Che ha fatto l'anno scorso E lei Occhio Occhio perché scende Uno di quei maledetti Giocatori Che però non bisogna Mai dare per morti A maggior ragione Nell'anno in cui gioca Con la cosiddetta Cheap on the shoulder C'è con quella voglia Di rivalsa E di vendetta sportiva Su tutti quelli Che l'hanno perculato E Boston potrebbe essere La piazza giusta Per questa cosa C'è Preachards Che in estate Ci ha fatto vedere Di far 60 70 punti Nelle leghe estive Di dubbio livello Però 70 punti Sono sempre da fare Quindi magari Avrà un po' di sviluppo Darà una mano A scendere in regia Non capisco La ripresa di Alorfor Devo dire la verità Però Vabbè C'è Canter Che anche qui Ok Il pacchetto lunghi Ancora un po' Da definire Sperano E si spera tutti Anch'io Che l'ho preso Il Dunkes Nella crescita Di Robert Williams III Che l'anno scorso Ha fatto vedere Buonissime Buonissime cose È una squadra Da titolo Boston Secondo me No Certo è che Il regola season Portata avanti Da Jalen Brown E si spera Da un MVP Like Jason Tatum Può puntare Ai primi 4 posti A est Ma Sì Diciamo che Se dovessi dire Già se arrivano Le conference finals La reputere è una vittoria Questa stagione di Boston Ecco Una squadra che invece Secondo me Si contenderà La finale di conference Della Easter conference Sono in Miami Heat L'anno scorso Stagione un po' Tribolata tra Covid Non partite Non giocate Infortuni Roba È successo di tutto Hanno preso Lauri In free agency Praticamente sacrificando Dragic E poco altro Hanno rifirmato Duncan Robinson A delle cifre Pericolose C'è da dire Sperando che il buon Duncan Renda Ovviamente c'è Jimmy Ovviamente c'è De Baio È tornato Victor Oladipo Ed è tornato Che l'anno scorso Praticamente non ha giocato Perché pensava solo Alla figa di Miami Che poi dici Non puoi neanche Dare tutti i torti Però saresti pagato Per giocare a basket Ovvero Tyler Hero Che tra l'altro Sembra essersi Praticamente Randoppiato In palestra Nell'estate Sembra molto motivato E se è molto motivato Stile Finals 2020 Direi che Non è male Questa squadra Mi piace Da morire Cattivissimi Cazzutissimi Lauri e Jimmy Nella stessa squadra Possono essere due Rompicoglioni Odiati da tutti Quindi Potranno fare Molto bene Secondo me Faranno top 4 In regular season Perché Potenzialmente Se difende In regular season Minci le partite Ai playoff Poi c'è da vedere Un po' sui matchup Perché vedo Milwaukee Un pelino avanti Vedo Brooklyn Anche se Dopo lì c'è da prima Un capitolo Abbastanza avanti Però come dicevo Secondo me Si lotteranno Le finals Di conference E le NBA finals Con le altre Atlanta Hawks Questo quinto seed Della scorsa stagione Che è stata la sorpresa Di playoff Con la loro Cavalcata Sulla Sulla schiena Dei Knicks E dei Sixers Finale di conference Per Gallinari E compagni In realtà è per Trai Young e compagni Che ha rifirmato Una super estensione Contrattuale Il buon try Super meritata Difficile fare meglio Dell'anno scorso Anzi sarà difficile fare Anche lo stesso risultato Dell'anno scorso E anzi Io placcherei un attimo Le aspettative Sugli Hawks Nel senso Ottima squadra Molto giovane Un anno in più Di esperienza Per tutti Torna dall'infortunio Cam Reddich Che è anche Una pedina importante Della rotazione Quindi per l'amor di dio Devono fare i playoff Possono anche provare A rischiare Le prime 4 est In regular season Perché no Però poi La vedo Veramente Veramente Tosta In una run Come quella dell'anno scorso Sarà una di quelle squadre Divertenti Da Da vedere Ma devono stare attenti Perché la competizione Quest'anno è serrata Nella Easter Conference Per i primi 5-6 posti E se sbagli Qualche periodo di troppo Dopo magari Ti ritrovi Ottavo Al primo turno Ti becchi La Milwaukee Di turno E sono cazzi Lì dopo Al primo turno Quindi Piano Con le aspettative Per quanto è una squadra Molto Molto divertente Molto interessante E di grandissima prospettiva Stesso discorso Farei per il New York Knicks Arrivati i quarti L'anno scorso Poi cazzati fuori In maniera anche Abbastanza imbarassante Dagli Atlanta Hawks Al primo turno Hanno rifirmato Julius Randle A cifre Corpose E' arrivato Fournier E' arrivato Kemba Walker Anche loro A cifre importanti La squadra ci sta Perché è una bella squadra Profonda Di gente Interessante Capace a giocare Nel senso Most improved per Randle Kemba A far cifre Non è mai un problema Manca un leader New York è una piazza Complicata Non lo so Possono Possono Anzi Devono puntare A fare i playoff Su questo non ci dubbio Però quarti Di nuovo La vedo veramente dura E mi puzza Di un'uscita Al primo turno Come l'anno scorso Però Già almeno Vedere di nuovo I Knicks Un po' più Nella contesa Per i playoff Fa un po' più piacere Al mercato NBA Per quanto io Tifosi I Knicks I Knicks Li odi Malamente Oh Se poi Nox Arjay Barrett E Obi Top Si ricordano pure Di essere Top 5 O poco via Scelta al draft Magari sarebbe Anche un piacere Per i Knicks Ecco perché Voglio dire Arjay Barrett Ancora ancora si salva Con gli altri due Dei movanti Della serie No ecco Allora Se questi tre Sono innesti Come aver preso Dei giocatori nuovi Sviluppano Il loro potenziale Allora Allora ci siamo I Knicks I Knicks Sono ancora più Pericolosi Allora Sì Arriviamo ai campioni In carica Della stagione 2021 Ovvero I Milwaukee Bucks Che di conseguenza Partono favoriti Per la Easter Conference Hanno perso Un tassello Molto importante Non dico che Gli ha fatto vincere Il titolo L'anno scorso Che però Ha contribuito In maniera Fondamentale Ovvero P.J. Tucker Ragazzi E quella è una perdita Non da poco Non Non da poco E non da sottovalutare Non tanto per la regola Season Che tanto andranno Via dritti Come dei treni Ma per Per la run Di difesa Al titolo Ai playoff Non me li vedo Sotto il primo Il secondo seed L'anno prossimo Nella Easter Conference E come ho detto Nel video delle Finals Che magari vi lascio Qui da qualche parte Occhio a Giannis Perché Giannis adesso Ha capito come si vince È vero Con un po' di fortuna Contro i Brooklyn Nets Però ha capito Come si vince E il fatto che un giocatore Sia già così forte E adesso appena Ha capito Cosa si prova Come si vince Cosa si fa Com'è la cosa Della vittoria Io ho paura Che adesso questo Prenda E domini Non solo fisicamente Ma anche mentalmente L'NBA Da qui Ai prossimi 10 anni Magari no Però la mia paura La mia paura c'è E arriviamo Ai due casi Più calienti Della Easter Conference Cominciamo dal secondo Seed Coloro che Hanno perso Con i Bucks Alle semifinali conference Ovvero I Brooklyn Nets Che sulla carta Si sarebbero rinforzati Perché è tornato Da che La Marcus Si è ritirato E è ritornato a giocare Quattro volte Nell'ultimo anno È tornato Quindi la Marcus Hanno rifirmato Di nuovo Blake Griffey Hanno firmato Paddy Mills Addirittura Come cambio di Kyrie È arrivato James Johnson Ed è arrivato Paul Millsap È vero A fine carriera Per l'amor di Dio Però comunque C'è dei signori Innesti per una squadra Che contiene già Irving Arden E Durant Però c'è da parlare Ovviamente del primo Di questi tre Il grande Kyrie Perché ha letteralmente Rovinato la squadra Al momento Visto che Non si vuole Vaccinare In nessuna maniera E oh Per l'amor di Dio Uno può fare Quello che vuole Della propria vita Nessuno sta qua A dirti Cosa fare Certo anche Però se vieni pagato E sei un professionista Per giocare a basket Certo che vaccino E basket sono due cose Che non collaborano Però se lo stato In cui giochi Ha fatto delle regole Per cui vaccinarsi È obbligatorio Sei anche cittadino Di quello stato Mi sembra anche giusto Rispettare quelle regole Ma adesso non voglio Parlare di vaccini Regole e cose D'altronde Un che pensa Che la teoria Sia piatta No Cioè Ecco Parliamo di basket Kaylee non può giocare Al momento è stato messo fuori squadra Il problema è che ha anche detto Che se lo trader Non si ritira Quindi cosa fanno Cioè I Brooklyn Nets Sono in una situazione Più merdosa di così Veramente Forse mai Nella storia dell'NBA Perché Un membro dei tuoi Big Free Kaylee comunque è un fenomeno Rimane un fenomeno Quando pensa a giocare a basket Non vuole giocare Non può giocare Non può giocare E non può essere tradato Cosa fai? Non puoi prendere nessuno sul mercato Perché Salary Cap Ciao Giochi senza Kyrie Sei senza un pezzo di squadra E neanche da poco Non puoi tradarlo Per prendere indietro Altri asset Ma anche se lo tradi Cosa cazzo Ti danno indietro Se questo ha dichiarato Che si ritira Cioè Cose da pazzi Cose da pazzi Ogni giorno C'è una nuova su Kyrie E' veramente allucinante La situazione dei Brooklyn Nets Che partono secondo me Da favoriti Non solo nella Easter Conference Leggendo il roster Ma dell'intera NBA Eppure Quando manca una settimana All'inizio dell'NBA Non si sa neanche Se Kyrie sarà Della Della stagione E quindi qua Per questo dico che Milwaukee A maggior ragione Forse in realtà È lei la favorita E chiudiamo in bellezza Con l'altro caso Che sta interessando Tutta l'NBA Ve lo sottolineo già Ma questo non è un caso La Kyrie Questa è praticamente Una stagione di Beautiful La cosa di Ben Simmons Perché È tutto bellissimo In quel di Philadelphia Ben Simmons se ne va E lei Non vuole che i compagni Vadano a trovarlo Poi lo multano Per diversi milioni di dollari Poi non lo vuole Vuole andare a Chicago Ma Chicago non lo vuole Allora ci prova Indiana I Philadelphia 76 Chiedono Ai Warriors Carry o Clay Per Ben Simmons Poi torna a Philadelphia Ma non si sa Se si allena Giusto per essere a Philadelphia E per non farsi togliere 10 milioni di stipendio Dai Sixers Nel frattempo Embiid lo disse In tutte le maniere possibili Ma Philadelphia Allo stesso tempo Dice no Ma noi lo aspettiamo In squadra Puoi cedere il More Che dice un'altra cosa E tutto È bellissimo È bellissima Questa situazione Dei Sixers Peccato che debbano Che debbano anche giocare A basket Fra un paio di settimane Anzi la prossima settimana E li vedo male Sinceramente con un dissidio così Li vedo male Anche perché Tipo Danny Green Ty Bull E altri Erano disposti A riprenderlo in squadra Embiid L'ha riempito di merda Quindi no E se il tuo leader Non è d'accordo Cioè Ma come funziona qua È chiaro che Senza Simmons I Sixers Giocano meglio Sono il primo a dirlo Però sì Non è che Simmons Sia un coglione Voglio dire Comunque è quello che doveva essere L'anno scorso Il miglior difesore dell'anno Rubato da 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 Gobersolo Perché fa le stoppate Prendi rimbalzi Che non vuol dire difendere L'anno scorso Hanno fatto il primo seed Li vedo veramente Veramente male Per ripetere Quest'impresa Certo che Comunque senza Ben Simmons Possono comunque puntare La top 4 Della Easter Conference E magari Provare A azzardare una corsa Alla Alla finale di Conference Però Dipende Perché è chiaro Che devono anche Traderlo Ben Simmons E per Ben Simmons Arriveranno degli assetti Al loro posto Che saranno Di integrare in squadra Sarà da vedere Come giocano con Embiid Come si trovano Con Doc Rivers Qui ci sono tantissime cose Da vedere E veramente troppo Troppo presto Per parlare dei Sixers Certo è che Ripeto Il primo seed La vedo durissima E niente ragazzi Per la Easter Conference È tutto Vi ricordo ancora una volta Di farmi sapere la vostra Sulle squadre Chi farà Chi sarà Chi dove sarà Chi dove non sarà Ci rivediamo Fra qualche giorno Per la Easter Conference Ogni sera in live Alle 21 E nei prossimi giorni Con un nuovo video V-Day V-Day Vabbè lo lasciamo Belly Boys V-Day 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 Stai imparando V-Day 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 V-Day